Buongiorno a tutti, sono Stefano Fornasiere, vi parlo di una bella iniziativa che verrà fatta il venerdì 9 marzo qui presso il PN Boxe, una cena di amicizia e solidarietà dedicata alla Wildem, Unione Italiana Lotte alla Distrofia Muscolare. Wildem è una realtà storica nata nel 1961, nasce per combattere le distrofie muscolari e tutte le altre malattie neuromuscolari e favorire nello stesso tempo l'inserimento sociale delle persone che ne sono colpite. Wildem, la sezione di Pordenone, si è spostata dal 1998 da Pordenone, ora per esigenze e amplimento di strutture si trova a Fontana Fredda e quotidianamente offre assistenza alle persone attraverso del personale qualificato, medici, fisioterapisti, specialisti e affianca le persone nella loro integrità sociale e di patologia di malattie quali diagnostica, prevenzione e terapia e nello stesso tempo con la conseguente presa in carico di alcune patologie derivati, quelli possono essere di natura traumatica, internistica, cardiovascolare e psicologica. Abbiamo inoltre presso la nostra sede Wildem a Fontana Fredda attivo un laboratorio di musicoterapia che aiuta le persone afasiche, ovvero le persone che sono state colpite da ictus che hanno perso la parola e grazie all'ausilio della musica pian piano fanno esercizio nel riacquistare l'uso della parola. Siamo anche inoltre attrezzati con dei mezzi per il trasporto di carrozzina per tutta la provincia di Pordenone. Nell'occasione del venerdì 9 marzo nel corso di questa cena organizzeremo una lotteria simpatica, proprio l'abbiamo chiamata nel contesto amicizia e solidarietà, il cui ovviamente è ricavato e sarà necessario per il buon funzionamento della struttura. Vi aspetto numerosi anche per una serata in compagnia e in amicizia e perché no, anche con un po' di musica, quindi faremo anche quattro momenti conviviali insieme. Vi ringrazio tutti dell'attenzione e un arrivederci a presto. Grazie. 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 Grazie.